Grazie a tutti Vai sali sali Meno 13 al passaggio E allora eccomi qua Ho aiutato a portare la ragazza in barella E eccomi a commentare questa Prima gara Qualificazione per gli allievi maschi Abbiamo un passaggio di meno 12 Abbiamo in testa Ghiotto Ghiotto Morelli Numero 339 Prima munizione Allora Al passaggio ci sarà campana di meno 10 Ed entriamo Prima campana meno 8 Abbiamo un atleta in meno scusate Quindi prima campana meno 8 Si è portato ora in testa Silvestri Dell'azzurra patinaggio corsa Seguito da Morelli Scaltenigo Venezia Poi all'esterno ora si forma un altro trenino Si vanno a cercare le posizioni La gara ha un ritmo già veloce Ma deve entrare nel suo vivo Ed ecco la campana di meno 8 Che erroneamente avevo annunciato due giri prima Quindi eliminazione in corso Elimination Numero 305 eliminato E ancora Ghiotto in testa Viene ammonito il numero 287 Ghiotto pur Ghiotto pur E Montiero Intanto siamo già con l'eliminazione in corso Numero 258 eliminato Si alternano in testa Ora si è formata una coppia della Bosica Si tratta di Giacoponi in testa Sali ancora Sali E Angelini Giacoponi Ha eliminato il numero 104 Eliminato il numero 316 E' eliminato il numero 316 Ora all'esterno Rilancia Attenzione abbiamo una caduta Abbiamo una caduta Attenzione Ci rialzano entrambi gli atleti E' finita E' finita Intanto in testa Ha lanciato l'azione E va a chiudere E questi erano tutti dentro Ho visto fare Tutte e due Tutte e due E' finita